Musica All'ambasciatrice, due parole su questa mostra molto importante a Roma. Sì, questa mostra che stiamo presentando oggi è la mostra più ampia e diversa di arte contemporaneo che si ha presentato in Roma in ultimi anni. Abbiamo più di un centenar di obras di 57 artisti cubano che rappresentano una varietà generazionale. Abbiamo dei artisti consagrati, di tempo, accompagnati per obras di raggiungi generazioni. E questo ci sembra molto importante perché ci permette realmente recorrer l'arte cubano, diciamo che in tutti i stili, concezioni, con differenti abbordaggi artistiche, però anche con la differenza di visione che possono avere le diverse generazioni cubano. E tutti uniti per un elemento essenzial che è il papel, ose, tutte sono cose realizzate in base al papel. Instalazioni, pintura, collage, fotografia, dove si si guardano atentamente si può trovare con molta facilità, come diceva anteriormente, la esenza e il coraggio cubano. Grazie!